Noi siamo dalla parte di Stalin e dell'Unione Sovietica. Noi conservatori vogliamo un forte e solido Stato, vogliamo ordine e famiglie in salute, valori positivi, vogliamo rafforzare il ruolo di religione e chiesa nella società. Noi vogliamo la radio patriottica, la tv patriottica, patriottici esperti, club patriottici. Vogliamo che i media diffondano l'interesse nazionale. Queste sono alcune delle frasi pronunciate da Aleksandr Dugin nel 2007-2008 e questo è Aleksandr Dugin, il Rasputin contemporaneo, non solo fisiognomicamente ma anche per la sua vicinanza a quello che è lo czar contemporaneo, ovvero Vladimir Putin, ideologo di riferimento di Putin, promotore del nazionalbolshevismo, che cercheremo di scoprire che cosa diavolo sia e ispiratore, come vedremo, del conflitto che è scoppiato proprio in questi giorni fra Russia e Ucraina. Se pensavate che la filosofia fosse solo un sapere astratto, ricredetevi, quest'oggi con questo approfondimento, questo speciale su questa figura particolare del panorama culturale mondiale, cerchiamo di vedere come la filosofia possa veramente influenzare i governi, i potenti e avere un impatto reale sulla società e quindi conoscerla è meglio che ignorarla. Ne discutiamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Buonasera o buongiorno se state ascoltando indifferita a tutti quanti e siamo arrivati a questo momento, questa live un po' particolare. Io ho voluto organizzare questa serata per tentare di parlare del conflitto fra Russia e Ucraina da un punto di vista diverso, in modo da dire qualcosa di utile, costruttivo, informativo, nel campo di riferimento che contraddistingue Daily Cogito, che è quello della filosofia, senza cadere nel chiacchiericcio che ci sta in questi giorni, colpendo da ogni dove, da cui vi ribadisco, cercate di sottrarvi per quanto possibile. Così oggi cerchiamo di mettere insieme qualche ragionamento utile per capire un po' meglio, perché quello che cercheremo di fare questa sera è ricostruire, parzialmente, perché insomma in un'oretta e mezza non riusciremo a, diciamo così, di spiegare tutto il corpus di opere, di pensieri di questo filosofo, però cercheremo di chiederci su cosa che si fonda la propaganda putiniana, quella narrazione, quella serie di storie che sentiamo di qua e di là, o per eco, oppure per fonte diretta, e che, diciamo così, costituisce la narrazione che dà luogo, anche fra le altre cose, al conflitto in Ucraina e fra le altre, alla nemesi, diciamo, l'inimicizia fra Russia e Stati Uniti e tutto quanto. E perché e in che modo gli avvenimenti di questi giorni hanno radici profonde? Perché come vedremo le radici sono molto molto profonde. Un conflitto del genere non si scatena dall'oggi al domani perché uno è pazzo, perché Putin non è pazzo. Questo lo voglio dire, signore e signori, ascoltatemi bene, perché questa è una cosa veramente importante. Ogni tanto io lo ribadisco su delicogito, ma non è mai sufficiente. Negli anni 20-30, Hitler, ma possiamo citare anche Mussolini, Stalin, tutti i grandi dittatori pazzi, sanguinari della storia, questi non sono emersi perché a un certo punto un cervello dà di matto e riesce a coinvolgere in una follia un'intera nazione o un intero continente o tutto il mondo. Hitler era umano, ed è questa la cosa più fastidiosa da dire. Hitler era umano, Mussolini era umano, Stalin era umano. Tutti questi erano esattamente come noi. Stesse paure, stessi difetti, ovviamente differenziazioni caratteriali e storie diverse, ma ricordatevi che i tiranni sono la conseguenza di processi storici molto lunghi. E se noi vogliamo essere superficiali, diciamo che Hitler era pazzo, che Stalin era l'anticristo e quell'altro era Mona, se invece vogliamo essere un po' più attenti e analitici, guardandoci allo specchio dovremmo sempre riconoscere gli aspetti dei tiranni, i profili, i difetti che portano poi un individuo a diventare tirannico. Ricordatevela questa cosa qua. Quindi, dall'altra parte, gli avvenimenti di questi giorni hanno radici profonde e non emergono perché Putin è pazzo. Emergono perché c'è un movimento, perché c'è un processo. Se noi non capiamo questo processo, non lo ricostruiamo per quanto possibile, non capiamo il presente. Questo significa studiare la storia e anche la storia della filosofia. E quindi ci domanderemo che ruolo gioca la filosofia nel potere e nella guerra? Molto spesso la filosofia viene derubricata a sapere astratto, privo di impatto sulla realtà, una cazzata. In realtà tutti questi avvenimenti, questi momenti in cui politici prendono il potere, prendono decisioni, emergono anche da ideologie, anche da ispirazioni filosofiche, anche di pensatori in vita o a volte di pensatori non in vita. Dugin è, per lo sguardo che vogliamo lanciare, un punto di osservazione privilegiato. Ci permette di ricostruire alcuni filamenti della storia spezzata che sempre ci troviamo di fronte. Il presente è una storia spezzata, nel senso che noi non riusciamo a ricostruire tutte quante le concause che portano all'oggi, ma abbiamo il dovere razionale di ricostruirne alcune ed è quello che cercheremo di fare quest'oggi. Perciò bentornati a tutti, sono molto felice di avervi qua. Prima di leggere due o tre cose della chat, che adesso insomma cercherò di gestire con l'aiuto dei nostri moderatori, dove andare a recuperare cose di Dugin? Allora, in Italia è difficile recuperare i libri di Dugin, si trovano sul sito di IBS perché gli editori sono editori tipo Altaforte, quindi editori molto di margine, editori schierati politicamente. In Italia sono gli editori di estrema destra che pubblicano Dugin, ricordiamocelo. Però si trovano alcune opere su IBS. Io le opere che ho di Dugin ce le ho in inglese, infatti ho fatto lo sforzo di tradurvi alcune cose, alcuni discorsi, tante cose e ho dovuto prenderle da siti che erano direttamente in russo e spero che la traduzione, ovviamente utilizzando anche Google Translator ragazzi, perdonatemi ma il russo non l'ho ancora studiato, magari un giorno sarà la mia prossima missione di vita, però dicevo spero di aver ricostruito abbastanza bene il senso delle cose. Comunque poi se state ascoltando in differita metterò tutte le fonti a cui mi sono approvvigionato sotto. Dicevo ci sono molte opere, la più importante opera di Dugin è la 4TP, si chiama, la quarta teoria politica. È un testo degli anni 90, se non sbaglio del 1998, testo che è stato molto diffuso, tradotto in tutte le lingue, e che presenta appunto la sua quarta teoria politica, ovvero la teoria politica che supera le tre teorie politiche novecentesche che hanno avuto la loro ascesa e poi la loro discesa. In primo luogo il fascismo, anzi il nazifascismo, il comunismo e il liberalismo. Le prime due sconfitte dal terzo, il terzo secondo Dugin in grande declino, come vedremo, e da questo nasce la necessità della quarta teoria politica che cercheremo di descrivere per quanto possibile. Comunque di Dugin trovate tante conferenze anche su YouTube, lui ha fatto un tour in Italia nel 2019, parla l'italiano, è una persona molto colta in realtà, non c'è nulla da dire a riguardo, parla sei lingue, il russo, l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco e lo spagnolo, quindi insomma capite che è un tizio che va preso sul serio per la sua erudizione, per l'impatto che ha, però poi va capito bene. E in questo tour in Italia nel 2019 è stato intervistato da varie televisioni, trovate tanti canali che ne parlano, comunque gli approfondimenti sul web non mancano assolutamente. Ha tanti estimatori in Italia, soprattutto nella parte che viene definita populista, Dugin si definisce con orgoglio un populista, anche questo cercheremo magari di capire qual è il connotato di questo termine populismo e questo è quello che ci aspetta. Come sempre io divido la live in alcuni capitoli, fra un capitolo e l'altro io vado poi a leggere la chat, quindi evidenziate le vostre domande. Allora, eccoci qua, sì, piacerà Salvini, già ho capito, esattamente, esattamente. Vediamo un po', vediamo se c'è qualche domanda. Segnalo il software DeepL, se servono traduzioni automatiche ma abbastanza ben fatte. Grazie Marcus, poi vado a informarmi. Con Google Translator non ho avuto grossi problemi, non mi sembra che siano sgrammaticate le frasi che andrò a leggervi. Non è un filosofo, è un filo putinosofo, Lion Club. Ma io, allora, sinceramente non sto qua, non mi piace prendere parte al dibattito sul fatto che uno sia o non sia un filosofo. Per me Dugin, grazie Xlight per 72, grazie anche a Diego Spinola per gli abbonamenti, grazie mille, bella gente. Dugin di fatto è un filosofo, poi magari è un filosofo che non ci piace, però è un filosofo in quanto usa la storia della filosofia. È il linguaggio filosofico per scrivere libri, creare interpretazioni della realtà, con cui poi magari siamo in totale disaccordo, però c'è, non c'è alcun dubbio. Questo ti direi. La Russia, mai avuto un pensatore liberale? Riccardo Vicari. Oddio, liberale? Liberale? Mi viene in mente Zamyatin, che è lo scrittore, il primo autore di una distopia. Ha scritto un romanzo che si intitola Noi, Nicolai Zamyatin. Liberale? Oddio, non so se definirlo liberale. Sicuramente era la cosa che si avvicinava di più a un liberale. Ovviamente ci viene in mente Solzhenitsyn, con Arcipelago Gulag, anche se in alcuni momenti della sua vita si è comunque definito critico del liberalismo. Poi ci sono tanti pensatori dissidenti, Turghinev, ci sono tanti che potrei citarti. Liberale? Liberale? No. Comunque, ecco, cioè non liberale nel senso occidentale. Ecco, no, giusto, giusto, avete ragione. Ayn Rand, anzi libertaria, infatti Ayn Rand è uno degli antidoti eventualmente al pensiero di Dugin. Però ecco, la Rand è liberale perché si è trasferita negli Stati Uniti. Quindi liberalismo per me è una cosa che è difficile da contestualizzare nell'ambito della cultura russa. Tu cura, ecco, questo ti direi. Russia e liberalismo è una battuta. Sì, cioè nel senso è difficile dire. Sicuramente ci sono stati tanti, tanti ottimi dissidenti. So che Dugin ama mescolare le sue carte nell'argomentazione da una visione paramistica che sottende i suoi discorsi, molto vicino a una sorta di neopaganesimo. Assolutamente sì, infatti parliamo esattamente di questo. Allora, vediamo Lorenzo, cosa dice? Rick, ha letto qualche testo di Dugin? Sì, assolutamente. Da docente universitario di filosofia politica specializzato nel pensiero di Dugin, noto una profonda confusione ed una lunga serie di errori in questa spiegazione. Soprattutto Dugin non è l'ideologo di Putin, basterebbe leggere i suoi libri e articoli, nonché conferenze per comprenderlo. C'è anche un intero libro dedicato alla critica di Putin, edito anche in italiano, potrebbe essere interessante realizzare un confronto aperto a riguardo. E allora, il fatto che venga definito l'ideologo di Putin non significa che Dugin sia d'accordo con Putin, significa che Putin ha preso molto spunto da Dugin. E questo è indubitabile, lo ammette sia Dugin che Putin. E non è un caso che poi nel pensiero di Dugin ci siano molti rimandi anche alla situazione che sta vivendo in questo momento storico. Quindi sono contento che Lorenzo sia qui ad ascoltare la live, però il fatto che Dugin abbia criticato Putin per le politiche economiche non significa che non sia definibile come un punto di ispirazione proprio di Putin. Bene, spero che la live poi venga apprezzata. Allora, partiamo con il primo capitolo. Partiamo con il primo capitolo della live, che si intende da partiamo dalla fine. Ucraina perché? Allora, cerchiamo di dare contesto subito a questa cosa, ok? Cerchiamo di dare contesto a questa cosa. Ucraina perché? Dugin nel 2010 fa un discorso in cui dice il rinascimento russo non può che fermare a Kiev. Cioè Kiev è una tappa fondamentale del rinascimento russo. Che cos'è il rinascimento russo? Il rinascimento russo è letteralmente, come vedremo, un programma politico che si trova all'interno dei testi di Dugin e ha a che fare con la ricreazione, la rinascita della grande madre Russia. Attenzione, qui c'è un punto subito importante. Quando si parla della tradizione della madre Russia, diciamo così, è la storia che ha portato la Russia ad avere un governo forte con l'esclusione del periodo lininista. Perché Dugin, che come dicevo all'inizio, insomma abbiamo anche fatto la citazione, non rigetta la Russia stalinista, anche se poi col tempo si è ammorbidito e ha un po' criticato, sicuramente rigetta la Russia lininista, la quale non voleva uno stato forte, voleva l'abolizione dello stato, lo sappiamo. Essendo la cosa più vicina a un marxismo di interpretazione più, diciamo così, classica, mettiamola così, e quindi rigetta quell'idea di internazionalismo antistatalista lininista e invece poi dall'altra parte sposa e cerca di mettere insieme una visione pre-sovietica, quella della grande madre Russia imperiale dello Tsar e poi dello stato molto forte e centralizzato stalinista. Quindi il rinascimento russo deve passare per forza da Kiev. Questo è un punto essenziale che va capito per contestualizzare l'attacco che in realtà avviene da almeno un decennio, essendo iniziato con la Crimea, insomma sapete tutto, ormai vi hanno ammorbato in questi giorni con queste cose qua, però Dugin, e questo è importante dirlo, è uno dei principali promotori della guerra in Ucraina. Questa cosa qua si vede tanto nei suoi libri quanto nei discorsi che spesso tiene, nelle conferenze, ne trovate anche alcune tranquillamente su YouTube. È un sostenitore di DPR, non so come si dica in russo, però DPR e LPR. Sono i due partiti filorussi separatisti del Donbass, di Donetsk e di Luhank. Aspetta, non credo di averla detta giusta, ho sbagliato. Quindi quando abbiamo sentito, prima dell'attacco in Ucraina definitivo di Putin, il riconoscimento delle repubbliche di Luhansk e Donetsk, ricordatevi che nel corso degli ultimi dieci anni Dugin ha appoggiato, molto più che soltanto ideologicamente, ma anche cercando finanziamenti e appoggiando e via dicendo, i leader, i separatisti, questi movimenti filorussi separatisti. Quindi lui è molto molto dentro a tutti i movimenti che avete visto in questi ultimi giorni. E in passato ha parlato letteralmente dell'eradicamento dell'identità ucraina. Come sapete Putin non riconosce la sovranità dell'Ucraina. Putin ha ammesso chiaramente che l'Ucraina è uno stato illegale, filonazista, fatto di tossicodipendenti poi, quindi ne di tutti i colori su Zelensky e il governo. Dugin non lo riconosce e parla letteralmente di un eradicamento dell'identità ucraina. Alcuni interpretano male questa cosa qua, non è una chiamata al genocidio, anche perché in realtà nelle parole di Dugin ucraini e russi sono fratelli, quindi non c'è una chiamata al genocidio come alcuni hanno cercato di dire. È un eradicamento dell'identità politica ucraina che non ha senso di esistere. Questo ha portato nel tempo ovviamente Aleksandr Dugin ad essere bandito da Kiev, però questo è lo stato dell'arte nella posizione di questo filosofo nei confronti dell'Ucraina. Scrive, sempre Dugin, solo dopo la rinascita della grande Russia potremmo essere veri protagonisti globali. Questa frase l'ho voluta mettere perché denota un aspetto che tanti analisti occidentali hanno assolutamente denotato, fra cui anche Bernard Henry Levy che ha avuto un dibattito con Dugin nel 2019, lo trovate completamente integrale su YouTube ed è molto bello. Questo è importante perché Dugin nelle sue opere chiama e crea e porta avanti letteralmente un programma imperiale di stampo russo. Ricordiamocelo questo perché, ora io come ho detto nel pre-live, non ho più voglia di lanciarmi in previsioni e analisi future, perché io due o tre settimane fa avevo detto che la guerra secondo me non scoppiava, mi sono sbagliato e quindi è meglio che faccia un passo indietro e basta, cioè nel senso non ho nessun problema a dire mi sono sbagliato, quindi è meglio che io eviti di fare analisi. Però è indubitabile che leggendo i libri di Dugin possiamo sospettare che l'idea che muove l'azione putiniana non è un'idea che si ferma all'Ucraina, qualunque cosa accadrà all'Ucraina. L'Ucraina potrebbe o venire del tutto annessa alla Russia, perché ricordo la Russia può annettere l'Ucraina, la NATO non poteva annettere l'Ucraina, cosa da sottolineare per tutti i commentatori della domenica che in questi giorni hanno detto un sacco di cazzate, però dicevo potrebbe essere o che l'Ucraina venga annessa alla Russia, nel caso Putin abbia la meglio, può essere che l'Ucraina rimanga neutrale con un governo marionetta, un po' come quello di Lukashenko in Bielorussia e quindi comunque alla merce di Putin, però il punto è che se veramente Dugin è il punto di ispirazione filosofica e ideologica principale per questi atti, allora potremmo aspettarci tranquillamente qualcosa di più in futuro, magari non subito, però sicuramente bisogna stare allerta. Quindi la rinascita della grande madre Russia è l'unico modo per diventare nuovi protagonisti globali, quindi l'idea è quella di diventare protagonisti globali, cioè forza imperiale. E continua, la rivoluzione ucraina del 2014, quando diciamo così ci fu l'Euro Maidan, forse non ve lo ricordate, però fu quando, diciamo così, viene chiamata la rivoluzione della dignità, ok? La rivoluzione ucraina del 2014, secondo Dugin, fu la risposta dell'Ovest, quindi dell'Occidente, all'avanzamento verso l'integrazione russa, cioè c'era Yanukovych, presidente dell'Ucraina, che aveva cominciato un avvicinamento alla Russia e un allontanamento dall'Europa. Nel 2013-2014 comincia un movimento popolare che riempie le piazze e crea scompiglio molto forte in Ucraina. Il governo di Yanukovych traballa, questo porta al cambio di potere. Ecco, questo per Dugin e per Putin fu un golpe dell'Occidente. Questo è, diciamo così, la lettura che si dà di questo aspetto. Quindi per Dugin, scusatemi, gli Stati Uniti manipolano l'Ucraina, tutt'oggi, per mandarla in guerra contro la Russia. Questo spiega perfettamente perché la propaganda di Putin in questi giorni sta dicendo alla Russia, ma non solo, sono cose che serpeggiano anche nelle nostre notizie, i nostri notiziari. È il motivo per cui Putin dice, attenzione, noi non stiamo aggredendo l'Ucraina, noi stiamo rispondendo a un'aggressione. Perché nella propaganda di Putin l'aggressione perdura da quando il governo ucraino è cambiato, quindi da quando l'Ucraina ha cominciato di nuovo a spostarsi verso l'Occidente, verso l'Europa, verso la Nato, e quindi l'attacco di Putin è una risposta a un'aggressione. Ora, questa è una ricostruzione molto fantasiosa, per tanti motivi, anche perché per chi si ricorda i movimenti di piazza del 2014-2013 era veramente un movimento popolare, non c'erano eserciti, non c'erano dissidenti, non c'è stato nessun golpe, nessuna manipolazione. È stato un movimento di piazza perché l'Ucraina popolarmente voleva andare verso l'Europa. E questo accade da molto molto tempo, perché da un lato tu avevi l'ex blocco sovietico, di cui l'Ucraina ricorda molto bene il peso, dall'altra invece l'Europa con tutto quello che viviamo noi stessi, quindi con un tenore di vita desiderabile. La propaganda di Putin va in quella direzione. Ed è una lettura che si dà. Questo io ve l'ho ricostruito perché, pur essendo fantasioso, questo è ciò che sta alla base. Di nuovo, le idee di Dugin stanno alla base di questa propaganda. Alla base di tutto questo sommovimento c'è letteralmente uno scontro etnico e uno scontro di diverse visioni della civiltà. Ed è per questo che è importante andare al nocciolo della filosofia, perché nella filosofia si sviluppano quei concetti che poi tu vedi manifestarsi concretamente. L'Ucraina è, dal crollo del muro di Berlino, una spina nel fianco per i nazionalisti russi che mal digeriscono lo smembramento dell'ex Unione Sovietica. Anche quelli che magari non erano proprio simpatizzati, persino Dugin che dice di essere stato un dissidente, poi insomma dissidente è una parola grossa, però di essere stato critico nei confronti dell'Unione Sovietica e via dicendo, anche i non entusiasti dell'Unione Sovietica ancora si risentono di come è avvenuto lo smembramento dell'ex Urs. E Putin è parte integrante ed è manifestazione di quel malcontento. Yeltsin negli anni 90 cercò di far superare, traballando enormemente, questo tipo di malcontento, ma dall'altra parte invece Dugin fu proprio un contestatore di Yeltsin. Quindi l'Ucraina è una spina nel fianco e anche questo è un motivo per cui vediamo quello che sta succedendo. E Dugin gioca su questo malcontento. È anche il motivo della sua popolarità, lui è molto popolare, è riuscito a fare breccia in alcuni aspetti molto sentiti della popolazione russa e non solo, e unisce una rivalità etnica presente, lo scontro nel Donbass per esempio, il discorso fra filorussi e russofobi. Ricordiamoci che Putin ha costruito tutta la sua propaganda sulla contrapposizione fra russi e russofobi, come se in Ucraina ci fossero letteralmente due etnie diverse, quando poi in realtà non è così, ad un esoterismo conservatore vicino a quello di René Guénon, che è uno dei punti essenziali di ispirazione di Dugin. Infatti scrive Dugin sono un seguace di René Guénon che ha identificato la crisi della società occidentale europea ben prima del ventunesimo secolo. La forma di degradazione spirituale dell'Europa è cominciata con il modernismo, la perdita dell'identità cristiana, ma è arrivato al culmine negli anni 90 quando tutte le istituzioni vennero plasmate dal liberismo di destra in economia e dal liberalismo di sinistra nella cultura. L'approvazione di matrimoni gay mi ha fatto capire verso dove stava andando l'Europa. Uh, l'approvazione di matrimoni gay, mio Dio! Si arriverà presto al momento finale, dopo ci sarà il caos, la guerra civile e la distruzione. Forse è troppo tardi per ribaltare la situazione. Ecco, queste sono idee veramente che esprimeva René Guénon e sono quasi copincollate, queste cose le diceva chiaramente qualche decennio prima, qualche anno prima Guénon, ma poi continua quando si parla del progetto della grande madre Russia, del partito eurasiatico, come vedremo. Scrive, geopoliticamente i paesi baltici non rientrano nella sfera di interesse dei russi, con la Georgia siamo in un momento di stabilità, il problema resta con l'Ucraina perché la situazione non è pacifica, non abbiamo liberato i territori dove l'identità pro-russa è dominante, dove è vittima di un misto di neonazisti e neoliberali. L'Ucraina resterà il problema numero uno ma con Trump c'è la possibilità di uscire dalla logica della guerra. Questa era un'intervista fatta nel 2018 quando ancora c'era Trump, o 2019 anzi scusatemi. Quindi l'Ucraina resterà il problema numero uno ma con Trump c'è la possibilità di uscire dalla logica della guerra. Adesso Trump non c'è più e quindi insomma sapete c'è Biden, ma lungi dalle idee di Dugini il fatto che questo dipenda da chi siede sul trono degli Stati Uniti, anzi. Quindi capite bene che la visione di Dugin è una visione etnocentrica, nel vero senso della parola. Si tratta di dare disvelamento al destino del popolo russo. Nel libro La quarta teoria politica, ma anche in altri libri, in altre interviste, Dugin parla continuamente di destino. Non è un caso che sia un heideggeriano, militante, quindi insomma un interprete fantasioso di Heidegger sotto alcuni aspetti. Perché lui parla proprio del destino del popolo russo, come se il popolo russo avesse il momento in cui deve effettivamente adesso prendere il suo. In effetti nella sua storia, la storia di Dugin è particolare, è stato cresciuto religiosamente, era entrato, ha fatto parte di movimenti tanto filocomunisti quanto filofascisti. Quindi insomma ha avuto, e poi ha aderito al, vediamo se lo dico giusto, anastasianesimo, la setta dei cedri risuonanti, ok? È una setta religiosa questa qua, letteralmente, è una setta emanata che mette insieme la religione cristiana ortodossa e il neopaganesimo. E infatti unisce tradizione ortodossa russa al neopaganesimo, che esiste da sempre poi nei popoli slavi, nella loro tradizione, si autodefinisce vedismo russo, cioè l'unione del cristianesimo ortodosso e della tradizione vedica. Questo è un elemento essenziale in Dugin, che probabilmente non riusciremo ad approfondire veramente questa sera, però la compresenza di tradizione ortodossa e neopaganesimo, esoterismo, è un elemento che si ritrova in tantissimi pensatori di questa risma, fra cui Julius Evola, ovviamente René Guénon e tanti altri. Secondo questa visione, ed ecco il punto veramente veramente importante, secondo questa visione, le etnie esistono. Cioè cosa vuol dire esistono? Hanno una loro ontologia. Un'altra cosa che Dugin continua a ripetere anche nelle interviste, ma anche nei suoi libri, è che esiste un'anima dei popoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che è il popolo che esiste essenzialmente. Cioè sono le etnie, i gruppi che esistono, che sono reali. Il soggetto della storia è il popolo, la nazione, non l'individuo. Quando prima ho parlato di scontro di visioni del mondo, era questo che intendevo. Il grande nemico di Dugin è Karl Popper, con il libro La società aperta e i suoi nemici. E la società aperta è proprio il nemico contro cui si scaglia. Perché lui dice, vi ricordate Popper, abbiamo fatto anche la monografica qualche tempo fa, Popper diceva quella frase famosa, non esiste la società, esistono gli individui che compongono la società. Ma la società è l'astrazione degli individui, perché il soggetto della storia sono gli individui che attraverso le loro azioni piccole, grandi, stupide, giuste, sbagliate, compassionevoli, violente, via dicendo, formano poi il movimento della storia. Ma il popolo, la società, il gruppo è un'astrazione. Ad esistere è l'individuo con le sue responsabilità, i suoi comportamenti, le sue caratteristiche, la sua unicità e irripetibilità. Questo è ciò contro cui Dugin si scaglia, perché non è così. Per Dugin è il popolo ad avere un'anima, è il popolo quindi a diventare soggetto della storia, ad avere una sua realtà, una sua essenza. Questo ricorda moltissimo l'eghelismo, ovviamente l'individuo è soltanto un momento negativo del movimento universale dello spirito, che invece fa uso di popoli, di nazioni, di grandi sommovimenti della storia per dipanarsi e per raggiungere poi il suo destino, il suo compimento. Dugin, quindi, da questo punto di vista, basa la sua visione su una descrizione esoterica e archetipica dei popoli. Cioè il suo intento è quello di reimmettere nel discorso pubblico e politico il concetto di sacro, di sacralità. Ecco, il movimento di secolarizzazione dell'Occidente è il grande nemico per Dugin. Dugin, parlando dello spirito dei popoli, del destino manifesto della Russia, dell'anima dei popoli, della realtà dei gruppi e delle nazioni, e quindi della secondarietà dell'individuo, in questo modo da un lato contesta l'Occidente, il liberalismo individualista che porta al centro del mondo il soggetto con le sue responsabilità, le sue caratteristiche e la sua libertà individuale, che per noi, lo sappiamo, è il nostro dogma, mettiamola così, è proprio un dogma quello della libertà individuale nostra, mia, che comporta il benessere, comporta la responsabilità, comporta la costruzione del diritto, comporta tutto quello che viviamo. Quindi da un lato riesce a contestare questo, dall'altro dà uno spazio riflessivo che reimmette il concetto di sacralità, perché laddove centrale e reale non è più l'individuo con i suoi comportamenti, i suoi gesti, la sua responsabilità, le sue parole, le sue idee, ma è il gruppo, tu abbandoni di fatto l'empirismo in cui l'esperienza è essenziale e la comprensione razionale dell'esperienza è essenziale per darti, ovviamente, a un irrazionalismo collettivista che porta maggior rilievo sull'interpretazione simbolica della realtà che non poi sulla realtà empirica che nella nostra tradizione si è sviluppata poi nel sapere scientifico. È il motivo questo per cui Bernard Henry Levy, nell'intervista che ho citato, che poi metto in descrizione, nel 2019, definisce razzista il pensiero di Dugin. Dugin, che è un fine sofista, quindi un bravo argomentatore, continua a dire che lui non è razzista, assolutamente no, perché la sua visione dell'etnicità come anima dei popoli, e quindi questa differenza ontologica fra i popoli, non sottintende una gerarchia nelle diverse razze ed etnie. Ma è evidente che questo non è il fondamento del razzismo. Il razzismo in realtà si fonda sull'idea che le etnie siano inviolabili e non comunicanti. Cioè, non serve dire che io e il russo, fra me e lui c'è una superiorità o un'inferiorità. Basta dire che fra me e il russo c'è un limite invalicabile, ontologico, che rende il me italiano e il lui russo ontologicamente fondati. Questo è il razzismo che ci piaccia o meno. Anche perché poi vorrei capire come da questo non si vada inevitabilmente a fare il confronto fra le diverse etnie e creare anche una gerarchizzazione. Capite bene che, insomma, è un espediente retorico, perciò è un pensiero razzista, perché il razzismo non è solo affermare superiorità o inferiorità delle razze. Anche discernere le razze, le etnie, i popoli, come ontologicamente fondati. E deve esserci in questo esoterismo e simbolismo, perché ovviamente non c'è nessun tipo di prova empirica. È tutto non falsificabile. È tutto al di fuori di un sapere scientifico. È tutto al di fuori di una dimostrabilità e quindi falsificabilità. Anche in questo si vede la distanza fra un pensatore come Popper e uno come Dugin. E questo comporta l'inevitabile discesa di questo pensiero nell'esoterismo e nel misticismo. Ed è in questo ambito che, come vedremo fra poco, si instaura la critica di Dugin all'Occidente. È su questo tipo di spaccatura che bisogna comprendere perché Dugin prende posizione contro l'Occidente. Detto questo passerei alla chat. Allora, vediamo un po'. Vi vedo belli attivi, belli vivi. Spero di non star correndo troppo. Spero di... Grazie a Mr. Bok che ha regalato un abbonamento. Grazie anche a Xlight per il Prime. Grazie mille, bella gente. Grazie mille. Allora... Ecco, mi hanno anche affumicato, quindi si va con la fumicatura. Allora, Fili chiede... Leggendo la quarta teoria politica, mi avevano molto interessato le sue analisi delle tre ideologie del Novecento, in cui assegna ad ognuno un soggetto storico, sia individuo, razza e classe. Mentre ovviamente ritengo folli le sue conclusioni. Cosa ne pensi di questo tipo di analisi? Ma allora, ritengo che sia una semplificazione utile ai suoi scopi. Cioè, nel senso, è una semplificazione necessaria. Da un lato tu hai il fondamento del liberalismo che è l'individuo, poi c'è il fondamento del comunismo che è la classe, il fondamento del nazifascismo che è la razza. È una grande semplificazione, perché queste erano ideologie molto più complesse. Quindi può essere interessante per contestualizzare, però poi sono analisi che vanno... cioè, sono proprio, diciamo così, create ad hoc per sostenere poi le conclusioni a cui arriva. Come qualsiasi semplificazione, inevitabilmente. Allora... Tinea dice che in un momento di debolezza adolescenziale mi feci catturare dalla crisi del mondo moderno di Guénon, un libro terrificante. Sono di quei libri che fanno breccia e fioriscono alla debolezza delle persone. Tinea, hai perfettamente ragione e infatti poi io stasera non ne parlerò troppo di questa cosa, però i libri di Dugin sono proprio di quel genere lì. Sono proprio di quel genere lì. Io ho avuto... ho avuto lo stesso effetto con Evola. Non mi sono fatto catturare troppo, però Cavalcare la Tigra è un libro che mi aveva catturato subito, di primo acchito. Allora, andiamo a vedere. Ma Limonov, l'autore di cui ha scritto Carrere, di cui ha fondato il partito Nazbol, non era amico di Dugin? Sì, assolutamente. Chiedo perché Limonov critico anche molto Putin. Allora, convitato di pietra, sì hai ragione. Loro sono entrambi cofondatori del partito Nazbol, quindi nazionalbolcevico, che è un partito ultranazionalista russo, di estrema destra, molto razzista, che che ne dica Lorenzo Maria Pacini? Mi dispiace che non si riconosca il razzismo quando c'è molto razzista, molto suprematista, quindi insomma, ma lasciamo perdere. E poi si sono distaccati proprio perché Limonov ha preso una direzione molto critica nei confronti di Putin, mentre Dugin non così tanto, anzi all'inizio è stato molto vicino, molto vicino insomma, in qualche modo a Putin. Allora, non ho capito se questa teoria dell'etnia si basa sulla genetica, sull'aspetto, sulla cultura, sugli archetipi, cioè il discorso, se genetica, Dugin con la genetica, l'idea espressa da Dugin è che la differenza ontologica è ontologica, cioè ha a che fare con gli archetipi di queste civiltà. Quindi con i simboli profondi delle civiltà, è una cosa che si costituisce, è riduttivo dire culturalmente, non è solo cultura, è proprio ciò che sta alla base ontologica della nostra civiltà. No, aspettate un attimo, aspettate un attimo, via, le fake news mi dispiace, ma no, cioè queste balle assurde no, Lorenzo Maria Pacini no, grazie. Non aderì al partito nazbol, va bene. Ok, no, perché adesso obiettivamente, signore e signori, mi spiace. Ora vediamo razzismo ovunque, ritorna il tuo discorso, il politicamente corretto. Ma, Gigo, vedere razzismo ovunque è sbagliato, se però io dico, cioè capisci, il punto è il seguente, se io ti dico che fra un Veneto e un Sardo c'è una differenza che è ontologica, ovvero esiste una differenziazione metafisica delle nostre diverse umanità, questo non ti sembra razzismo? Cioè non ti sembra che questo fondi l'idea, per esempio, che uno è più umano dell'altro, per esempio, o che uno si avvicini di più a un'idea di umanità rispetto all'altro, per fondamento ontologico. Io sono sempre molto critico nei confronti delle derive del politicamente corretto, però questo è razzismo. Cioè è proprio definizione di razzismo, capite? Non mi serve dire, ah beh poi il Veneto è superiore al Sardo, o viceversa, Arik Duferre è superiore a Shai. Non serve questo, perché questa conclusione è già insita in quello che io dico nella differenza ontologica. Se questo non è razzismo, veramente non so bene più che cosa sia razzismo, capite? Scania Losi dice, ricordi la questione dello sradicamento in Heidegger? Dugin riprende molto questa tesi etnocentrica per giustificare il nazionalismo, il nazionalsocialismo e demonizzare l'ombra del comunismo, chiese soprattutto del processo di mondializzazione. Sì sì è vero, è vero, sono d'accordo. Infatti è uno dei punti che riprende proprio da Heidegger. Sì ma volevo dire che la gente crida al lupo, al lupo e quando non ti è più nascosto non lo riconosce. Sì sì è vero, beh sì, su questo sono d'accordo. Cioè se tutto diventa razzismo poi non riconosciamo più i veri razzismi. Quello di Dugin, che mi piaccia o meno al prof che ho bannato, è razzismo. E come sei razzismo? Anzi è il razzismo più subdolo, perché ti sembra di star dicendo in realtà una roba tranquilla. Certo Marcus è stato bannato perché se poi mi spargi la notizia fasulla, fasulla, che non ha neanche mai aderito Dugin al partito nazionale bolscevico, è una notizia fasulla. Ok? Molto semplice. È razzismo simbolico, definibile anche come razzismo culturale, che non utilizza la teoria genetica, bensì relativismo culturale, in cui ogni specificità culturale viene valorizzata ma al contempo isolata monadicamente, con tutto rispetto per le monade di Leibniz. E, Brea Spirit, ribadisco, può anche essere questo, ma il fondamento di ogni razzismo è quello lì. Cioè l'idea del fondamento ontologico è che fra me, che sono A, e te che sei B, non c'è un sostrato comune. Perché se la nostra differenza non è culturale, ma ontologica, ribadisco, si parla di differenza ontologica, si parla di anima dei popoli, significa che i russi hanno un'anima, addirittura dice hanno un angelo, Dugin dice i russi hanno un angelo, i cinesi ne hanno un altro. E per definizione di Dugin, l'angelo di un popolo e l'angelo di un altro possono andare in accordo, l'angelo di un popolo e l'angelo di un altro non vanno d'accordo. Ragazzi, mi spiace ma se non vedete il razzismo in questo avete un problema, perché significa che non capite da dove partono i razzismi e potreste essere tranquillamente vittime. Perché da un punto di vista ontologico la scienza ci dice chiaramente che non esiste differenza ontologica fra gli esseri umani. Non esiste. A livello genetico, a livello fisico, a livello di sviluppo del nostro, della nostra fisiologia e via dicendo. Ci differenziamo perché poi viviamo in contesti diversi. Ma dire che gli italiani hanno un angelo e i ceniotti un altro angelo, ovvero sono ontologicamente non compatibili o comunque differenti ontologicamente, se non ci vedete razzismo, non capite perché si è arrivati ad alcuni fascismi, perché si è arrivati in vari momenti della storia a definire alcuni gruppi di uomini come umani e altri non umani. Ragazzi, vi prego, cioè non perdiamoci in queste cose qua e poi non facciamo, cioè nel senso non... Signorino dice comunque di etnia o di razza si parla anche nei libri di medicina che usiamo all'università. Potreste spiegare meglio perché Dugin è razzista, questo dice chiaramente follie, ma non possiamo negare. Per esempio, differenze genetiche fra popolazioni diverse. Cosa, scusa? Allora, qui stiamo mischiando dei livelli che non andrebbero mescolati. Se vogliamo stare sul discorso di Dugin, mettiamo da parte la genetica. Dugin non parla di genetica, non è questione di genetica questa, ok? Quella al massimo si mette insieme a qualcos'altro, ok? Quindi si aggiunge. Ve lo ripeto, l'ultima volta perché poi mi sembra di essere abbastanza chiaro. Dugin dice ogni popolo ha una propria irriducibile essenza, mettiamola così, ok? Quella che chiama anima, angelo. Cosa significa? Significa che il popolo russo non è il popolo russo inteso come gruppo etnicamente sviluppatosi in un contesto con un linguaggio, una storia che però dipende dal contesto. Significa che il popolo russo, ovvero gli individui rossi, sono tutti accomunati da un'anima. Ovviamente questo, anche se uno di questi russi dice ma io non mi sento russo, Dugin gli direbbe non me ne frega un cazzo, tu sei russo. Perché hai angelo russo? Scusatemi la brutta imitazione di un accento russo. Quindi non c'entra nulla la libertà individuale, non c'entra nulla la libertà, l'interpretazione e via dicendo. Tu sei quella roba lì. Cioè tu sei russo anche se finisci per cambiare tutto della tua vita. Sei russo perché c'hai questo angelo, ok? Quindi c'hai i russi, poi c'hai per esempio, non so, gli italiani. Gli italiani hanno un'anima diversa per Dugin. Quindi hanno una storia. Non è che la differenza fra russi e italiani sia sviluppatasi perché siamo vissuti in contesti diversi, ma perché abbiamo un sistema simbolico e quindi un'ontologia irriducibile. Questo comporta, come conseguenza inevitabile, che l'incontro fra questi due popoli, nazioni, etnie, gruppi, non potrà mai essere un incontro in cui gli italiani e i russi, incontrandosi, diventano cose diverse da italiani e russi. Perché quell'ontologia è a priori rispetto all'esperienza. Questo è il conservatorismo, ok? Questo è la stessa cosa che dicono i nazionalisti israeliani, sionisti, duri e puri, del fatto che Israele oggi ha tutto il diritto di fare quel cazzo che gli pare in quella regione perché sono il popolo eletto il cui lignaggio arriva fino ad Abramo. Ragazzi, ma se questo non è razzismo io non so veramente cosa possa essere definito razzista, sinceramente. Io ora posso anche sopportare il fatto che ci sia un individuo che pensa a sta stronzata. E il fatto che poi in realtà milioni di persone si innamorino di questo pensiero, come è successo altre mille volte nella storia, e ci vadano dietro a criticamente, mi mette un po' di problemi. Quindi, almeno qui in questa chat, cerchiamo di collegare i neuroni e i polpastrelli e dire, eh sì cazzo, questo è razzismo, signore e signori, questo è un gran razzismo. Ok? Grazie Albi per l'abbonamento per il primo mese. Quindi ecco, io ti direi questo. Poi, se detto tutto questo, non ti sembra ancora razzista, leggiti Dugin e ti sarà chiarissimo. Ma basta anche ascoltare le interviste del cazzo che senti su YouTube. No, non voglio essere troppo di parte. Ascoltati le interviste, ascolta il dibattito con Berdan e Rilevy e quello che dice Dugin. Ora, mi spiace ragazzi, ma se non riconoscete razzismo in questo, ho brutte notizie per voi. Allora, vediamo un po'. Ci sono delle domande, sì, c'è la domanda di Ender che dice, Rick, è possibile sostenere che sia la fondazione assiomatica dell'ontologia a fondare il pensiero autoritario? Nel senso che il fatto che tu abbia degli assiomi da cui ricavi delle verità fonda quello che potrebbe essere inteso come pensiero autoritario, nel senso che non ammettere visioni di una volta fondati gli assiomi ontologicamente auto-evidenti. Allora, sì, è così. C'è anche un bel libro che vi consiglio, che purtroppo non c'è ancora, tradotto che io sappia in italiano. L'abbiamo citato con Michele Boldrin ed è Pragmatism as Anti-Authoritarianism. Quindi Pragmatismo come anti-autoritarismo di Richard Rorty. È una serie di conferenze, è un libro molto bello e ti dice una cosa molto chiara e proprio ti dice perché Dugin è quello che è. Qualsiasi pensiero che si fonda su un'ontologia non dimostrabile, non verificabile, puramente mistica, puramente esoterica, è un pensiero autoritario. Perché? Perché per fruirne hai bisogno di un sacerdote. Sacerdote, non inteso nel senso religioso, hai bisogno di qualcuno che ti guidi nella comprensione di questa cosa, ma senza di lui... Ragazzi, è la differenza fra il pensiero empirico occidentale scientifico e invece un pensiero mistico di altro genere, ontologico, metafisico. Per capire che lanciando una pallina di gomma dalla finestra il rimbalzo avverrà in un certo modo, non ho bisogno veramente di nessuno che me lo insegni. Lo posso verificare? Posso ripetere diecimila volte quel gesto, registrare i rimbalzi e fare una statistica e capire come funziona quel fenomeno. Se invece qualcuno mi dice i russi hanno una loro anima, i cinesi un'altra anima, gli italiani un'altra anima ed è ontologicamente rilevante e non c'è, questo è un pensiero che io non potrò mai verificare in nessun modo. Posso solo crederci, non crederci. E per crederci e non crederci di cosa ho bisogno? Di un sacerdote. Di un sacerdote che mi spiega, in qualche modo, perché quella è la verità. Questo è il fondamento dell'autoritarismo. Quindi, ricordatevi, questa cosa qua è autoritaria. Poi se vi sta bene, sti cazzi, è il motivo per cui, di nuovo, perché quel pensiero è razzista? Perché non è dimostrabile. Perché se tu mi dici che il russo ha un'ontologia a sé stante, ok? Se tu mi dici che quel popolo ha un'ontologia a sé stante, tu stai fondando un pensiero che io non posso verificare, mi stai dando un pregiudizio che forse è tuo, mi stai convincendo, ma stai diventando il mio sacerdote, capito? Cioè io mi sto fidando del fatto che i russi hanno un'anima propria, che lo spirito del mondo funziona attraverso degli angeli. Questo autoritarismo, ribadisco, vi va bene l'autoritarismo? Ok, però dobbiamo capire che questo è un pensiero fondamentalmente razzista, perché avere un sacerdote che ti dice i russi hanno un'anima diversa da quella degli italiani, significa che domani quel sacerdote potrà dirti tranquillamente, guarda che i russi sono fighi, gli italiani un po' di meno. ed è quello che è sempre, sempre, sempre successo. Ok? Bene. E adesso vorrei andare avanti con la monografica, perché è bello questa discussione, bellissima questa discussione, però mi scaldo quando vedo gente come il professore di filosofia che mi dice che sta roba non è razzista, porco il cazzo, mi dispiace per i tuoi studenti, ma non vorrei veramente andare sul personale. Passiamo al secondo capitolo. Detto tutto questo, il punto da andare ad approfondire è perché contro l'Occidente? Perché contro il liberalismo, liberismo, che poi anche lì furbescamente spesso Dugin scambia a piacimento. Ok, allora, leggete il libro di Rorty, piuttosto che quello di Dugin. Pragmatismo come anti-autoritarismo, è un libro importante. E io non sono del tutto d'accordo con Rorty, peraltro, quindi io prendo. Rorty per me a volte troppo estremista dall'altra parte, come poi avrò modo di argomentare durante questa serata, che forse sarà più lunga del previsto, sappiatelo perché. Allora, contro l'Occidente e contro il liberismo, liberalismo. Scrive Dugin, oggi l'Europa occidentale sta nella trappola della modernità e della postmodernità. Il progetto della modernizzazione liberale va verso la liberazione dell'individuo da tutti i vincoli con la società, con la tradizione spirituale, con la famiglia, con l'umanesimo stesso. Questo liberalismo libera l'individuo da ogni vincolo. Lo libera anche dal suo gender e un giorno anche dalla sua natura umana. Il senso della politica oggi è questo progetto di liberazione. I dirigenti europei non possono arrestare questo processo, ma possono solamente continuare. Più immigrati, più femminismo, più società aperta, più gender. Questa è la linea che non si discute per le elite europee. E non possono cambiare il corso, ma più passa il tempo e più la gente si trova in disaccordo. La risposta e la reazione che cresce in Europa è che le elite vogliono fermare, demonizzandola. La realtà non corrisponde più al loro progetto e le elite europee sono ideologicamente orientate verso il liberalismo ideologico. Questo pezzo ci dice chiaramente che Diego Fusaro è un plagiatore di Alexander Dugin. Cosa posso dire su questa cosa qua? Allora, posso dire che c'è un lato di verità. E su Daily Cogito l'abbiamo discusso tantissime volte. Proprio nella puntata uscita ieri, registrata ieri e uscita oggi, io ho detto chiaramente che noi abbiamo un serio problema. Il problema è di starci allontanando dalla realtà, di star creando una virtualità assolutamente inaccettabile. Quante volte abbiamo parlato del fatto che, in fin dei conti, noi stiamo allontanando, per esempio, il pensiero della morte, non riusciamo più a pensare alla tragedia, non riusciamo più a fare i conti con noi stessi, ci stiamo allontanando dai concetti di responsabilità personale. Ci sono fenomeni come il politicamente corretto, la cansa del calcio, tutte queste cose qua che sono odiose, perché denotano una debolezza intrinseca della nostra cultura che mi spaventa. Perché è da quella debolezza che poi arrivano i dughin a gamba tesa e convincono gli stronzi del fatto che hanno ragione e trasformano il paese in un covo di razzisti timidi. Ok? Quindi sono convinto che noi siamo colpiti da un'intrinseca debolezza e se c'è una cosa che io cerco di fare proprio con Daily Cogito è creare, con il mio povero piccolo pubblico, un sostrato di consapevolezza su certi temi che spesso vengono trattati molto in superficie. Ma c'è anche una falsità enorme. La falsità è che non si possa contestare questa roba. Ragazzi, siamo in tantissimi a contestarla. Siamo tanti, abbiamo tutta la libertà del mondo del contestare, del non prendere posizione, del non fare. Bisogna farlo nel modo giusto. Bisogna contestare il politicamente corretto senza essere dei fascistelli. Ed è pieno purtroppo di persone che contestano il politicamente corretto soltanto perché vorrebbero il loro politicamente corretto, che è di colore diverso. Ma possiamo essere persone ragionevoli, contestare queste cose qua, senza dover buttare tutto quanto quello che è la nostra civiltà e cultura nel cesso. Leggiamo un altro pezzo. Scrive Dugin. La Russia oggi è il nemico numero uno dell'Europa perché il nostro presidente non condivide questa ideologia post-moderna liberal. Però qua devo interrompere Dugin. No, è perché il vostro presidente ammazza i dissidenti, sbatte in galera gli omosessuali, ammazza le persone, i giornalisti, le giornaliste che non sono d'accordo con lui, distrugge la libertà di stampa ed è fondamentalmente un dittatore che porta invasioni e guerre illegali. No, è per questo. Dugin, secondo me... Però andiamo avanti. Continua Dugin. Siamo nella guerra ideologica, ma stavolta non è fra comunismo e capitalismo, ma fra elite liberal, politicamente corrette, l'aristocrazia globalista e contro chi non condivide questa ideologia come la Russia, ma anche Trump. Eh, vedete, insomma, l'occhiolino a Trump. L'Europa occidentale è decadente, perde tutta l'identità e questa non è la conseguenza di processi naturali, ma ideologici. Le elite liberal vogliono che l'Europa perda la propria identità con la politica dell'immigrazione del gender. Ora, anche qua, devo fermarmi, mio secondo, ma qualcuno mi spiega perché. Qualcuno mi spiega perché le elite europee dovrebbero voler distruggere l'identità europea in questo modo. Quando in realtà, se c'è proprio una cosa che l'Europa non riesce a gestire, è l'immigrazione. Cioè, ragazzi, diciamocelo, se fosse così, l'Europa metterebbe un sacco di soldi per riflussi migratori, farebbe entrare tutti e ciao ciao, farebbe politiche di apertura a ogni cosa, ma non è quello che sta succedendo, porco il cazzo. Quindi, cioè, Fusauro, scusami, Dugin, calmati, ma andiamo avanti. L'Europa perde quindi potere, la possibilità di autoaffermarsi, la sua natura interiore, capito? Dugin ha a cuore la natura interiore dell'Europa, perché lui sa qual è la natura interiore dell'Europa. Lui lo sa, noi non lo sappiamo. E continua. L'Europa è molto debole, nel senso dell'intelletto, è culturalmente debole. Basta vedere come i giornalisti circoli culturali discutono di premi dell'Europa. Io non la riconosco più, questa Europa. Il pensiero sta a livello più basso del possibile, l'Europa era la patria del logos, dell'intelletto, del pensiero, e oggi è una caricatura di se stessa. L'Europa è debole spiritualmente e mentalmente. I russi devono salvare l'Europa dall'elite libera che la stanno distruggendo. Ecco, qui, io spero, cioè, spero che non venga a liberarmi e a salvarmi, Dugin, lo spero con tutto il cuore, anche perché quando vedrà questa live non sarà molto contento. Ora, no, ma palesemente no. Che ci sia un processo di indebolimento europeo non c'è alcun dubbio. L'abbiamo detto tante volte. Il processo di unificazione europea dell'Unione Europea ha abbandonato quella sua spinta federalista iniziale che poteva portare a una unità di intenti dell'Europa e che poi non ha portato a nulla. Perché? Perché siamo stati stronzi noi a eleggere le persone sbagliate per decenni. Cioè, parliamoci chiaro, signore e signori, non c'è niente di cazzo metafisico in questo indebolimento europeo. Siamo stati noi, becchini dei nostri pensieri, ad adagiarci su un benessere piovuto dal cielo e a voler sempre eleggere degli stronzi che ci davano ragione. Questa è la nostra debolezza. Dai, su, non c'è niente di metafisico. Semplicemente che siamo degli stronzi. E ora qualcuno potrebbe dirmi, e forse però è troppo tardi. Siamo stati troppo stronzi, adesso niente da fare. Però non mi pare, non mi pare, non mi pare che sia quello il punto. E poi conclude. La Russia, con grande potere, ha risposto alle violazioni di diritti georgiani o seti ucraini abcazi crimei. Ecco, questo, signore e signori, è il fantasy incredibile. L'Europa non può comprendere l'atto politico per eccellenza, la sovranità. Perché essa stessa ha perso il controllo della propria sovranità. Trump ha cominciato a cambiare la situazione degli Stati Uniti, ha ricordato che la sovranità è un valore, e noi russi con Putin abbiamo ricordato questo al mondo prima di Putin. Prima di Trump, scusatemi. Qui il discorso che fa Dugin è esattamente il discorso del maschilista che picchia ogni sera la moglie, e quando guarda la casa a fianco, in cui il marito, dopo un ceffone alla moglie, è stato denunciato alla polizia, dice, quello è un debole, quello è un debole, quello non può capire la sovranità dell'uomo sulla donna. O peggio, quando vede il vicino che invece, tipo non so, lava i piatti, dice stiamo scherzando, un vero uomo non deve lavare i piatti, deve picchiare la moglie. Ci dissociamo ovviamente da questo. Però è lo stesso discorso. Cioè la Russia ha invaso la Crimea, ha portato la guerra, ha invaso la Georgia, ha fatto un casino, ha ucciso dissidenti. L'Europa condanna questo perché non può capire la sovranità. Porca puttana ragazzi. Esattamente come l'uomo picchia la moglie e dice, il mio vicino non picchia la moglie e mi critica perché non può capire la potestà. Cioè ragazzi, io non so, è un delirio questa roba, è un delirio vero, eh. E la cosa che mi spaventa è che tante persone si lasciano affascinare da queste stronzate. Eh io, io boh, io veramente boh. Quindi, prima di tornare alla chat, dopo queste letture che ci mettono un po' in difficoltà, però è importante rendersi conto di quello che si dice. Tutta la critica che fa Dugin all'Occidente si basa su una vera e propria caricatura e una serie di cherry picking incredibili. Eh, per me un buon antidoto Dugin è leggersi Steven Pinker. È uscito da poco in sua razionalità, eh, ovviamente Illuminismo adesso. Uno dei punti, eh, proprio di critica, eh, di Dugin all'Occidente è l'Illuminismo razionalista. Eh, che lui vede come l'inizio della decadenza totale. Perché a quanto pare dare più importanza all'esperienza personale e empirica che non ai simboli e all'esoterico è segno di decadenza. Eh, leggere Pinker è un buon antidoto. Quindi se per caso vi siete fatti fuorviare da questo tipo di pensatore, leggetevi Pinker che vi piacerà. E la ricostruzione della storia dell'Occidente è completamente fallata. È una serie di cherry picking. Lui prende alcuni avvenimenti e li ricostruisce in modo molto molto banale. Peraltro, ribadisco, niente di originale perché tanti altri autori dicono le stesse robe. Per fortuna ascoltati da poche persone. E per me il vantaggio di stare in Occidente è che io, come tantissime persone, posso tranquillamente essere anti-occidentale. Posso criticare l'Occidente, posso criticare l'America. In America posso persino bruciare la bandiera, vedete un po' voi. Posso scrivere articoli, posso essere filorusso io in Occidente, tranquillamente. Esattamente come in Italia tanti giornalisti lo sono. E non ne avrò conseguenze se non magari farmi ridere addosso dai vari Rick Duferre e altre persone magari dotate di un minimo di cervello che sentono le mie fregnacce. In Russia non posso farla questa roba qua. E non posso farla perché appunto c'è un pensiero autoritario. Perché la forza del liberalismo occidentale è che non solo resiste ai dissidenti, ma si nutre del fatto che esistono dissidenti. Perché il pensiero liberalismo, se io devo, cosa volete, siamo pieni di difetti noi, però c'è un motivo per cui io sono orgoglioso di essere europeo e occidentale. Con tutte le magagne che abbiamo, con tutta l'autocritica che possiamo fare. Però c'è una cosa che io dico. Il nostro è un sistema che si basa sull'autocritica. Questo nasce all'interno del pensiero scientifico. La scienza è proprio quel processo in cui qualsiasi cosa tu ipotizzerai dovrai vagliarla alla prova dei dati. E se i dati ti danno torto devi revisionare la tua ipotesi o rigettarla. Questa cosa qua ci ha permesso di arrivare dove siamo. Ci ha permesso di essere oggi, in un momento di grande crisi, la zona del mondo di maggior successo da ogni punto di vista. Stop. Ribadisco con tutte le nostre magagne. Io posso essere critico nei confronti di tutto il sistema che mi circonda, posso dire cose anche spesso molto inaccettabili e dicendolo farmi ascoltare da milioni di persone. E la mia società riuscirà ad assorbire in modo virtuoso questo aspetto. Ok? Questa cosa dobbiamo ricordarcela perché io lo so che in momenti di crisi è tanto facile lasciarsi andare a sogni di autoritarismo. Ah, se ci fosse quello bravo a comandarci. Ma signore e signori, non vi piacerebbe. Non vi piacerebbe. Ecco, in Russia sta roba non posso farla. Provate a fare serie autocritica in Russia. Vediamo dove vi tocca andare. Quindi, ecco, teniamola presente questa cosa qua. Ora, come dicevo prima, anche a me le varie manifestazioni della cosiddetta atomizzazione individualista non piacciono e spesso mi danno proprio fastidio. Lo sapete, insomma, sono infastidito da questa debolezza intrinseca delle persone che sembrano offendersi per tutto. Ormai l'offendismo è diventato una religione sovrana e non si può più dire nulla perché appena tocchi la sensibilità di qualcuno allora casca il mondo. Non mi piace il fatto che sulla base di sensibilità contemporanea si cerchi di revisionare la storia. Non mi piaceva con i fascismi, non mi piace oggi con i fascismi arcobaleno, non mi piace in nessun modo, non mi piace il modo con cui ci relazioniamo alla storia, non mi piace... Sono tante cose che mi danno l'orticaria in questo nostro mondo, ok? Quindi capiamoci. Non sto difendendo a spada tratta. Però non credo che la risposta sia una rinascita della centralità religiosa o ancora peggio, una caduta in un nuovo misticismo, in un esoterismo sfrenato. Non credo sia questa la risposta. Peraltro a me piace molto il fatto che in questa riscoperta della centralità religiosa Dugin si rifaccia a Nietzsche, ma solo finché fa comodo, ok? Cita sempre quei passi in cui Nietzsche afferma che la morte di Dio è stata una tragedia. Però poi non cita mai i passi in cui dice sì, l'uomo deve andare in avanti. Cioè la morte di Dio non è che dobbiamo tornare indietro perché abbiamo bisogno degli dèi, no? Deve andare in avanti. Invece no, lui è un conservatore quindi vuole tornare indietro, ok? Non credo sia questa la strada. Non credo che un fusaro del mondo. Pensate che pur di essere, pur di creare scompiglio, Dugin ha cooperato in Europa con movimenti e di estrema destra, come per esempio Alba Dorata in Grecia, quando si era installato un discorso proprio di fratellanza fra russi e greci, perché la Russia aveva visto nella crisi greca la possibilità di immettere nel cuore dell'Europa un alleato russo serio, forte, poi non è avvenuto. Ci hanno provato poi con Tsipras, insomma tutti i discorsi che sono venuti fuori, quindi si sono alleati e con l'estrema destra e con l'estrema sinistra. Dugin si è alleato, ha cooperato. Infatti anche qui quando ha fatto il tour 2019 in Italia è stato ospitato tanto da gruppi di estrema destra quanto da gruppi di estrema sinistra, quindi fantastico. Ovviamente approfittando dell'anti-occidentalismo che esiste in Occidente e che lo ribadisco è uno dei nostri punti di forza. Ragazzi mi fanno incazzare gli anti-occidentalisti in Occidente, mi fanno incazzare quelli che sputano il piatto dove mangiano, mi fanno incazzare quelli che fanno i compagneros d'avanguardia sudamericana, però poi con tutti i gingilli tecnologici, con le comodità, con l'affitto pagato ai genitori. Sono cose che mi danno fastidio queste cose, molto fastidio. Però è la nostra forza avere la capacità di avere all'interno persone del genere. Forza che in Russia non c'è, che in Cina non esiste, perché la fragilità della nostra democrazia è anche la sua forza, perché fragile significa elastico e malleabile. mentre Russia, Cina, regimi più autoritari, hanno la rigidità, hanno il pugno di ferro, ma si spezzano più facilmente, perché non sono elastici, perché si rompono con maggiore facilità. Ecco, io preferisco il nostro insopportabile elastico che non un rigido rompersi, sinceramente. Però vabbè, questo è un altro discorso. È bello, dicevo, che Dugin cooperi a destra-sinistra senza grossi problemi, basta che ci si definisca populisti, ok? Lui si definisce orgogliosamente populista, mostrando in questo modo poca propensione alla coerenza, purché i suoi fini siano raggiunti. Questo è un po' quello che io vedo in questo personaggio. Tanto per dirvi, lui scrive a un certo punto, proprio nel testo sulla quarta teoria politica, dice Per principio, l'Eurasia e la nostra terra, la Russia vera e propria, restano il centro di una nuova rivoluzione antiborghese e anti-americana. Il nuovo impero euro-asiatico sarà costruito sul principio fondamentale del nemico comune, il rigetto dell'atlantismo, strategia di dominio degli USA e il divieto di permettere ai valori liberali di dominarci. Questo impulso civilizzatore sarà la base di un'unione politica e strategica. Sapete quella cosa veramente bella di questa frase? È che, e questo lo si vede molto bene anche nell'intervista, nel dibattito con Bernard Rélevy, a un certo punto Dugin dice, è perché l'Occidente dice di avere dei valori universali, che però non sono universali, come i diritti umani, la democrazia, la libertà e via dicendo. E poi però dice che la società aperta ha dei nemici. E allora non è più una società aperta, perché si fa dei nemici. Che è ovviamente una fallaccia logica assoluta. Nessuno ha mai pensato che società aperta significa includere tutti subito acriticamente. Nessuno l'ha mai detto. Perché? Perché in realtà la società aperta, basta leggere il libro di Popper, ha dei posti ben precisi. Cioè tu devi riconoscerti in un sistema di valori. Se non ti riconosci in questo sistema di valori, certo che sei un nemico di quei valori. Significa che andiamo a farti la guerra? No. Significa però se tu vuoi prendere i tuoi valori e portarli da me, minando alla base la nostra serenità, allora sei un nemico, ok? Tipo il terrorismo islamico che ci piace o meno è un nemico. Non è che la società aperta perché abbraccia tutti, abbraccia tutto, ok? Quindi ecco, credo che sia abbastanza importante questo. Però poi lui è il primo a dire che bisogna vietare di permettere i valori liberali. Cioè nel senso, lui fa la stessa cosa che imputa la società aperta, poi la propugna lui. Ed è bellissima questa cosa qua. E continua e scrive, nella tradizione indo-ariana, la fine dell'era corrente assisterà al ritorno di Dio sulla terra. Una nuova gloriosa età dell'oro sorgerà. La sua venuta inizierà una grande guerra, dopo la quale egli fonderà il suo regno millenario. Questa sarà l'era descritta come Krita Yuga negli antichi testi hindu. Nei veda, appunto. Un'età di giustizia, dovere, virtù e felicità. Un tempo nel quale il grande Dio bianco del cielo regnerà supremo sulla terra. Nella religione hindu sarà il decimo e finale avatar del signore Vishnu, Kalki, il distruttore. Questo è proprio uno dei testi suoi. Tanto per dirvi, cioè nel senso, qual è il livello? Ecco, in questi momenti, quando scrive queste cose qua, dismette completamente la veste di filosofo e diventa un puro asceta, un religioso, un sacerdote, che si lancia in profezie, ok? Perché, vedete, la sua è una visione irrazionalista. Lui continuamente dice la sua è la visione della vittoria del cuore e dell'accefalo. Quindi è la vittoria del cuore sul cervello. Letteralmente, cioè, ragazzi, siamo a questo livello di simbologia. Per tutto questo si scaglia contro la tradizione, una visione empirico-materialista fondata sul sapere scientifico che ci rappresenta in quanto occidentali. Perché noi siamo il trionfo del cervello sul cuore, ok? E lui dice, no, bisogna fare il trionfo del cuore sul cervello. Non ha mai letto Spinoza, non ha mai letto invece tantissimi pensatori che hanno fondato l'idea molto presente in noi che il connubio cuore-cervello deve essere il fine da raggiungere. Perché chiunque pensi che la nostra società è una società dal solo cervello e senza cuore, io non so in che cazzo di società viva, ragazzi. Non abbiamo mai avuto così tanta solidarietà, cooperazione internazionale, nazionale. Il benessere che abbiamo raggiunto grazie al cervello ci permette di estendere di molto la nostra empatia e sensibilità, al punto che poi ci sono anche gli eccessi dell'empatia, fino al sensibilismo, fino a cose assurde, il tutti che vogliono prendersi cura di tutti, al punto che poi nessuno si prende più cura di se stesso. Quindi io non so in che mondo viva una. Poi il mondo è crudele, ma mica perché ha trionfato il cervello sul cuore. Il mondo è crudele perché è crudele, perché la storia è stronza e la morte raggiungerà tutti sempre e comunque. Ma in che cazzo di mondo vive uno che si convince che nel nostro mondo trionfa il cervello sul cuore. Secondo me siamo a livelli di follia totale. E tutto questo designa il fatto che quella portata avanti da Dugin, e che noi stiamo vedendo svilupparsi per la prima volta nella storia reale in Ucraina in questi giorni, è letteralmente una guerra religiosa. È proprio il termine giusto religiosa. È una guerra di dogmi. Il nostro dogma, il dogma dell'individuo libero, del liberalismo, quindi il presupposto che la storia venga mossa dalle gesta degli individui, dalla loro libertà e responsabilità, e quindi il sistema politico ed economico debba concedermi la maggior libertà possibile per autodeterminarmi. Questo è un dogma nostro, che uno decide di adottare o meno, e il dogma invece duginiano del il popolo e ciò che esiste, la nazione, il misticismo, non l'empirismo e tutto quanto, insomma. Da un lato quindi l'atlantismo, gli Stati Uniti, con questo dogma dell'individuo, con il liberalismo, con il sapere scientifico, dall'altro invece la Russia con l'Islam e la Cina, perché Dugin nei suoi scritti, quando parla del partito euroasiatico, parla di un'alleanza di convenienza, ma comunque sentita, fra il mondo russo, quello islamico, che Dugin vede come parte integrante del progetto euroasiatico, e quello cinese, di cui vede, insomma, il rifiuto della democrazia come cosa positiva. All'interno di tutto questo, una montagna di interpretazioni e utilizzi fantasiosi ideologici di pensatori come Jung, per esempio, perché vedete lì, e poi passo alla chat, si reinstalla il discorso fatto con Michele Boldrin qualche giorno fa, nell'ultima puntata. Io sono uno che dà grande importanza alle simbologie, le studio, mi piacciono, credo che dalla conoscenza dei simboli, e anche del misticismo, e anche della religione, e anche delle tradizioni, possa emergere una più chiara conoscenza di me stesso. Se conosco un po' meglio me stesso, quindi il motivo per cui mi relaziono a certe cose in un certo modo, allora significa che potrò magari relazionarmi meglio al mondo. Credo che sia una cosa, io studio e mi leggo volentieri le poesie, i testi sacri, dall'Eupanishad alla Torà, al Corano, perché credo che lì ci siano delle cose molto concrete. Credo che serva leggere e capire quelle robe lì per capire noi stessi, e quindi stare meglio nel mondo. Però non mi sognerei mai di dire che questo tipo di conoscenze abbia un impatto politico, o meglio, che io possa usare quelle conoscenze per persuadere gli altri che le mie interpretazioni intorno a problemi così esili ed effimeri, significhi avere una visione del mondo politica o addirittura globale, universale. l'idea di abbracciare Jung, Iveda, la simbologia, Meister Eckhart, la Bibbia, per abbandonare l'empirismo, l'individualità materialista, non materialista nel senso superficiale, ma nel senso che guarda le cose concrete, il sapere scientifico, il sapere sperimentale, il metodo di pensiero, il pragmatismo, per me è una follia. Cioè l'idea di abbandonare il primo, il secondo mondo per il primo, per me è un suicidio. Io ve lo dico, è un suicidio. Posso capire perché un russo sviluppi questo pensiero? Perché è una tradizione particolare? Perché la Russia si è venuta fuori da un settantennio di delirio, prima con la dittatura sovietica e adesso con Putin e le crisi economiche, via dicendo, è una traduzione molto molto precisa che è una tradizione anche di ambito slavo, che la filosofia di quel genere è andata in direzioni diverse, che ha sempre mantenuto un grande collante con lo spiritismo e con il neopaganesimo, sì. Posso capire quindi perché? Ma mi manda in bestia sapere che ci sono tanti occidentali, i quali hanno vissuto sotto l'incredibile vantaggio di avere un mondo basato sull'empirismo, sulla comprensione scientifica del mondo e voler abbandonare questo per quel mondo lì. Questa roba qua rimarrà per me un mistero incredibile. E lo dico da estimatore di Jung, da lettore dell'Eupanishad, dei Veda, lo dico da persona che stima moltissimo queste cose qua. Però mi lascia veramente basito. Questo ci tenevo a dirlo. Allora, Poliponi chiede se il berretto di Rick non sia un poliberticida. No, sono libero di portarlo anche se a voi non piace. In realtà, lo ribadisco, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto, non è un basco, è una coppola rovesciata, è come la porta Samuel Jackson nel film Jackie Brown di Tarantino. È un modo che ho sempre adorato e negli ultimi mesi ho cominciato a portarlo così e mi piace molto. Allora, smettetela in chat, smettetela. Bevo un goccio e poi leggo le domande. Allora. Mi sbaglio, mi ricordo un po' il personaggio di Immortal Joe in Mad Max Fury Road. Non muori per me, ma per il Valhalla. Guarda, è un film che ricordo poco. So che mi è piaciuto, ma... No, come è trascurabile Jackie Brown, Marcus? È uno dei più belli di Tarantino. Ma stai scherzando? È un film bellissimo, con alcuni dei personaggi più significativi di Tarantino. Riguardalo, te lo ricordi male. Comunque, dicevo, mi ricordo poco, purtroppo Fury Road, dovrei rivedermelo. No, beh, Julian Assange non lo discutiamo quest'oggi, cioè stiamo sulle domande legate alla live, ragazzi, dai. Esegesi chiede, questo patriottismo-razzismo è l'unico motivo perché Putin ha invaso l'Ucraina? Chiedo perché mi sfugge il vantaggio economico che la Russia avrà nell'ansione dell'Ucraina. Mi sfugge anche protesi per le differenze fra l'ideologia di Putin e quella di Dublin? No, beh, l'ideologia di Putin e Dublin? No. Sulla prima domanda che fai, ci sono anche vantaggi economici? Allora, intanto, non voglio farla troppo lunga, però l'esistenza di una zona neutrale che divida la Russia dal blocco della Nato è sempre stato un concetto molto importante, sia per la Russia che per la Nato. Infatti la Finlandia non è mai entrata nella Nato perché è l'inizio di quel cordone e poi l'Ucraina era la continuazione di quel cordone. Nel 2014 c'è stata la rivoluzione della dignità, chiamata così. L'Ucraina si è spostata di più verso Occidente dal punto di vista delle politiche e delle simpatie. In realtà era già molto vicina all'Europa, ma prima c'era un altro presidente che era filo russo e quindi non si poteva fare. La Russia ha cominciato a vedere questa cosa di malocchio e quindi c'è un vantaggio economico di deterrenza fondamentalmente. Cioè la Russia dice noi non vogliamo la Nato in Ucraina. Ovviamente questo è un claim completamente inventato perché carta alla mano non c'è mai stata la possibilità che l'Ucraina entrasse nella Nato. Questo è chiarissimo. Anzi, forse l'intervento in Crimea del 2014 è proprio ciò che ha eventualmente avviato un processo di avvicinamento dell'Ucraina alla Nato, un processo di difesa. Voglio ricordare che la Nato non annette gli stati, come qualcuno si è permesso di dire in vari video YouTube che sembrano scritti da persone ubriache. La Nato non ha mai annesso alcuno stato. Gli stati chiedono l'adesione alla Nato, che è un patto difensivo, che non è stato privo di problemi in passato, ma è un patto difensivo. E al contrario della Nato la Russia sta cercando di annettere l'Ucraina. Ecco, questo è importante da dire. Quindi insomma ci sono tante... Yanukovic stava avvicinando all'Europa ma voleva anche mantenere rapporti con la Russia. Blonde è un po' il contrario. L'Ucraina si stava avvicinando da molto tempo all'Europa e Yanukovic ha cercato di trascinarla un po' più di là. Poi possiamo discutere in mille modi, però è un po' diverso il discorso. Lui ha proprio dato... ha fatto alcune leggi che erano più di avvicinamento e riavvicinamento alla Russia che non all'Europa. Infatti ha fatto ingazzare la gente. Allora, andiamo a vedere qualche altra domanda. Aspettate un attimo. Se un cittadino russo e uno italiano fanno un figlio negli Stati Uniti. Che Angelo ha il figlio? secondo me... secondo me è di Rovigo. Io te lo dico. Secondo me è figlio... l'angelo è di Rovigo. Dugin non mi sembra altro che un fascistone. Che non dice nulla di nuovo. Perché tutto questo successo? Blue Baby... è una bella domanda. Perché secondo me è un fascistone più furbo degli altri. E perché lui... non so però mi sembra che abbia toccato delle corde più sensibili. Questa cosa dell'esoterismo del... è lo stesso motivo per cui Evola ha avuto grande successo negli anni... negli anni 50-60. Perché hanno toccato dei punti sensibili per la nostra tradizione culturale. Perché... mettiamola così. Secondo me... il processo di secolarizzazione in Europa ha avuto un successo enorme. Cioè l'Europa è di fatto... eh purtroppo ci sono i fascisti furbi. Purtroppo ci sono... non è uno simoro fascista furbo. Ci sono purtroppo. Poi sono di più i fascisti coglioni. Però ci sono anche i fascisti furbi. Comunque no, dicevo... credo, dicevo, che l'Europa sia la zona del mondo che ha avuto il più importante ed efficace sistema di secolarizzazione al mondo. Ma che non sia mai arrivato veramente fino in fondo. E questi pensatori hanno fatto leva sul fatto che il non completamento di questa secolarizzazione ha mantenuto vivo... viva una domanda di religione, di misticismo, di autoritarismo di quel tipo là. di spiritualismo. Questo è. E questo è il motivo per cui tante persone si innamorano di questi pensatori. Voglio dire, ragazzi, René Guénon, che mi spiace, con tutto rispetto mi ha scritto un sacco di puttanate nella sua vita, è un pensatore che ammalia una montagna di gente anche molto intelligente. E infatti vedrete, qualcuno verrà qua a dirmi, ma che cazzo, come ti permetti? Evola ha affascinato me. Io all'università ho letto Cavalcare la Tigre e ho detto, minchia, che testo. Poi per fortuna ho letto altre cose e ho detto, minchia, che merda. Con Dugging è la stessa cosa. Purtroppo io ho avuto la fortuna, o forse la forza, di accorgermi di leggere altro dopo Evola. Così come tante persone hanno avuto il coraggio di leggere altro dopo Guénon e accorgersi che erano puttanate. Tanti invece si avvicinano a Dugging perché affascinati da questa cosa. Leggono Dugging e non leggono più nient'altro. O leggono Evola e non leggono più nient'altro. O leggono Guénon e non leggono più nient'altro. Questo è il problema. Questo è il successo, secondo me. Marcus dice, dal punto di vista della dialettica culturale, trovo comunque importante che ci siano pensatori come Dugging perché altrimenti sarebbero tutti solo positivisti, illuministi alla Pinker. Allora, beh, Marcus, ti dirò, sono molti di meno gli illuministi alla Pinker, sono molti di più invece, soprattutto in Italia, i pensatori alla Dugging, non così estremi ma ce ne sono molti di più, e invece per esempio in Italia di Pinker, famosi quanto Pinker non ce ne sono proprio. Detto questo, sì, sono d'accordo, cioè nel senso io sono per la diversità, la diversità comporta il fatto che io dico Dugging dice cazzate, ok? Non mi sentirei mai di dirvi non leggete Dugging, ho sufficiente stima del mio pubblico per dire so che se leggerete Dugging capirete la caratura delle cazzate che dice. E magari vi accorgerete anche ci sono cose interessanti, non vorrei essere troppo estremo, ci sono delle cose interessanti, ok? Soprattutto magari se uno vuole capirne un po' dell'analisi storica, filosofica che si può fare della storia russa, secondo me ci sono delle cose interessanti, quindi tranquillamente. Però ecco, come dice Maynard, leggetevi Limonov, il libro di Carrère, leggete Limonov, il libro di Carrère, che è molto interessante. Quindi si sono d'accordo, ma non è tanto, cioè, non è che è importante che ci siano, è inevitabile che ci siano, proprio perché non esiste un pensiero omologante. Anche se Dugging vorrebbe far passare l'idea che globalizzazione è uguale a omologazione, che anche questa è una cazzata in mane, perché globalizzazione è proprio da sempre e comunque valorizzazione delle differenze. Globalizzazione, io questa cosa la voglio dire una volta per tutte, è globalizzazione. Non è mai stato l'idea del pensiero unico, fusariano, dugginiano, che tutti la pensano uguale. Ragazzi, ma dove, in quale fottuta globalizzazione viviamo? Globalizzazione da sempre è apertura dei confini, apertura dei blocchi, apertura delle identità alle altre identità. Valorizzazione dell'incontro con la diversità. È sempre questo, è sempre stato questo, senza dover mettere in campo l'idea che, vabbè, i tedeschi hanno un loro angelo, gli olandesi un altro, gli svedesi non hanno nessun angelo perché è troppo freddo e gli angeli non vanno lassù. Cioè, capite che globalizzazione non è mai stata omologazione. Guardatevi intorno, guardate l'Occidente che cos'è, guardate le città occidentali, guardate anche i paesini occidentali. E nel mio paesino dove vivo io, Piovenero, dove vivevo io, dove sono cresciuto io, Piovenero, Chette, che è un paesino di 8.000 cazzo di abitanti, nel centro ci sono 6-7 negozi etnici di diverse provenienze. Ma di che cosa stiamo, ma quale omologazione del cazzo? Quale? Boh. Quindi è risaputo che gli angeli sono freddolosi. Leggo l'ultima domanda e poi passo all'ultima parte della della live. L'OPF dice, visto che alla fine si tratta della contrapposizione tra due dogmi, individuo versus collettività, come possiamo convincerci di essere della parte giusta, posto che non vorrei mai essere dall'altra parte. Cioè, cosa farebbe il nostro sistema migliore del loro? È giustificabile o semplicemente sono basati su ragionamenti incompatibili? Allora, questa è un'altra bella domanda e ti rispondo in due modi. Allora, il primo è che l'ideologia dell'individuo è ciò che mi permette, come dicevo prima, di valorizzare l'esperienza empirica e quindi la ripetibilità sperimentale dell'esperienza e in questo modo non dover dipendere troppo, poi dipendiamo sempre da qualcuno nelle interpretazioni, ma non dover dipendere troppo da autorità. Uno, cioè, se il centro del mio mondo sono io e non lo spirito del mio popolo, ma sono io, l'esperienza che io faccio del mondo sarà interpretata sempre sulla base del fatto che io sono io? Potrò affidarmi ad altre autorità, ma sempre deliberatamente e sempre con lo scopo di migliorare la mia visione del mondo, di cui sarò responsabile e quindi pagherò anche le conseguenze dei miei fraintendimenti e acquisirò i vantaggi delle cose giuste. Uno. Due, altrettanto fondamentale, in un sistema dove l'individuo è primario rispetto alla collettività, l'idea che di me si faccia qualcosa che è vantaggioso per la collettività ma svantaggioso per me è un vantaggio non da poco. È un dogma di minor violenza questa. Se c'è un bene collettivo, lo possiamo riconoscere, ma dobbiamo deliberarlo. Deliberarlo significa votare democraticamente e significa votare democraticamente toccandoci la coscienza e cercando di fare meno danno possibile agli altri individui. Nei regimi collettivi mistici questa cosa non avveniva mai e non avverrà mai perché l'individuo diventa sempre sacrificabile. A questo aggiungiamo, però questo è una cosa che ha a che fare con le conseguenze e quindi non ha a che fare tanto con un discorso di logica o di presupposti, però io non posso che osservare come l'ideologia, il dogma di riferimento che io ho scelto di sposare quando ne ho riconosciuto il vantaggio, cioè questo il primato dell'individuo, ci ha permesso di sviluppare una sufficiente cooperazione fra individui in maniera da sviluppare un benessere che ha ridotto drasticamente non solo nel nostro mondo ma anche in tutti i mondi che hanno aderito a questa visione diminuire drasticamente la sofferenza, quindi per esempio la fame, la mortalità infantile che sono le due più grandi piaghe del mondo, cosa che invece per esempio in Russia è ancora molto alta, molto meno alta rispetto a cento anni fa grazie alle conquiste scientifiche occidentali peraltro che loro hanno intelligentemente acquisito e quindi mi ha permesso di ridurre nettamente la sofferenza pro capite nel mondo. Sono tre ottimi motivi secondo me per dire ok, io mi tengo stretta alla mia ideologia fino a che qualcuno non me ne proporrà una che abbia dei presupposti che mi sembreranno migliori, non è il collettivismo di Dugin questa, perché io ho già visto mille volte nella storia cosa accade in quel tipo di percorso. Quindi ecco questi sono i motivi che ti dico razionalmente, poi ce ne sono tanti altri, però questi tre secondo me bastano e avanzano per dire sì non è bene abbandonare questa strada per una vecchia. Adesso per concludere vorrei brevemente darvi alcuni indirizzi di approfondimento. Allora ovviamente troverete i link in descrizione, li trovate tutti lì. Poi vorrei dirvi quali sono gli alleati di Dugin e magari quali possono essere i nostri anticorpi. Alleati intendo quelli di ieri, quindi i punti di ispirazione di Dugin e poi anche quelli di oggi, perché ce ne sono. Ce ne sono tanti in realtà, ma ne citerò un paio. Una cosa importante da dire è la seguente. Gli autori che io andrò a citarvi, secondo me è una buona cosa leggerli, ma leggeteli con cautela, soprattutto un paio di loro, perché proprio come Dugin sono consapevoli del tasto che vanno a toccare e delle sensibilità che possono smuovere. Quindi andateci cauti, soprattutto col primo che ho già citato, è Julius Evola. Ora Evola è un filosofo italiano che è molto demonizzato, molto ostracizzato. Io l'ho letto, io ho letto quasi tutti i suoi libri principali, gli uomini e le rovine, Cavalcare la tigra, la tigra, scusatemi, Rivolta contro il mondo moderno e altri 3-4. Sono dei libri, devo dire, Evola è un autore piacevole da leggere, nel senso stilistico. È uno di quegli autori aristocratici che avevano una scrittura che mi ricorda molto Nietzsche, quindi piacevole da leggere. È un autore che ha portato avanti la filosofia del titanismo attraverso una visione esoterica del mondo, ha unito la tradizione occidentale di Nietzsche e di altri pensatori dell'antichità greca anche, con l'esoterismo anche orientale. Ecco, una delle cose che mi ha fatto allontanare da Evola è quando leggendo i libri orientali, leggendo libri tipo Veda, Upanishad, tantiamo anche Confucia e via dicendo, mi sono accorto che l'interpretazione di Evola era, come dire, molto libera. Ecco, mettiamola così. Però lui ha fatto questa cosa qua, ha creato un titanismo, quindi un ritorno all'eroismo attraverso un recupero della tradizione cristiana occidentale e un'unione con i saperi esoterici orientali. La parola d'ordine di Evola è l'antimodernismo, infatti io quando leggo Dugin mi sembra di rileggere Evola prima di tutto, e la sua è, diciamo così, una filosofia molto molto affascinata dall'Oriente e dall'esotico, dall'esotismo. Un autore, ribadisco, che è molto bello da leggere, molto interessante, molto affascinante. Ricordate di misurare quel fascino perché rischia di trascinarvi in fraintendimenti molto molto forti. Per me Bhagavad Gita è stato l'antidoto alle puttanate di Evola sull'Oriente, esatto, anche per me Bhagavad Gita e poi Upanishad, ma anche altre cosette. Mi sono accorto e ho detto, ma quante cazza ti ho letto da Evola? Però ecco, attenzione, perché è un autore trappoloso. Il secondo autore, questo invece vi invito a leggerlo perché sicuramente c'è anche la monografica, è Heidegger. Dugin si definisce definisce un heideggeriano. Heidegger, infatti, nella sua filosofia, purtroppo, per fortuna, vedete voi, dipende come pendete, alla fine cade in un pensiero molto legato al misticismo, soprattutto quando parla dell'arte, quando parla del disvelamento, il rapporto con la verità. Non è l'uomo che scopre la verità, ma è la verità che si disvela come rivelazione all'uomo. Capite, perché un pensatore di stampo cristiano e neopagano si è affascinato dal disvelamento della verità, come se la verità decidesse a chi disvelarsi per elezione, non per esperienza. Esperimentazione, quindi Dugin molto affascinato da questa cosa. Il concetto della gettatezza, del Dasein, vengono molto utilizzate da Dugin, che appunto utilizza Heidegger in modo un po' militante, quindi sicuramente anche da Heidegger prende quello che gli fa comodo. Un altro autore, che per me è molto importante, anche lì ci ho fatto la monografica e vi consiglio di recuperare, perché è un autore molto importante, ne parleremo anche con Michele Boldrin presto, sicuramente è Carl Schmitt. Schmitt, soprattutto con il suo decisionismo politico, quindi l'idea che il sovrano è colui che decide durante l'emergenza, cosa che possiamo tranquillamente comprendere bene tutti in questo periodo storico. Quindi questo decisionismo politico molto forte, che si vede negli scritti di Dugin. Dugin è un decisionista, cioè lui chiama proprio nei suoi scritti all'azione, all'azione bellica. E poi ovviamente anche in Carl Schmitt c'è questa idea del nomos della terra, cioè un ritorno a un modo diverso di misurarsi con il mondo. Quindi nel nomos della terra Schmitt dice il mondo si misura ancora attraverso i confini fra gli stati, quindi il territorio, e quindi c'è tutto il discorso dello spazio vitale, che per i nazisti fu così importante. Schmitt fu un nazista, ve lo ricordo, esattamente come Heidegger. E quindi anche lì c'è un tradizionalismo molto molto forte. Questi sono i tre autori che vi direi sono fondamentali, e poi anche René Guénon per i motivi già detti. Poi di chi oggi è in vita sono due quelli che vi cito. Uno è il francese Alain de Benoît, l'antiglobalista per eccellenza, il filosofo della destra estrema francese. Lui ha fondato proprio un movimento che è la Nouvelle Droite in Francia, il quale predica un comunitarismo che mira a distruggere il globalismo per ritornare alle piccole comunità, quindi di nuovo è un tradizionalismo conservatore molto spinto, ed è un comunitarista di destra. Quindi potremmo dire che De Benoît è poi alla fine l'ispiratore anche di movimenti come quello di Marine Le Pen e del padre di Le Pen ovviamente, quindi di quel tipo di destra. Anche lì, se leggiamo i testi di De Benoît ci trovano dentro un sacco di cose legate allo spirito dei popoli e tutte queste cose qua, quindi c'è anche lì moltissimo elemento razzista, discriminatorio. È un autore che va preso con le pinze De Benoît. Sicuramente interessante, molto molto interessante da ascoltare e leggere, andateci cauti perché è un altro autore che va preso con le pinze e sempre controbilanciato perché ha delle idee molto molto estreme. E poi l'ultimo, che io vi ho promesso che ne farò un approfondimento prima o poi, è Nick Land. Nick Land, autore americano, il fondatore dell'accelerazionismo, come alcuni lo dicono, e quindi l'accelerazionismo, l'idea che la trasformazione sociale sia in un corso inarrestabile verso il suo e disfaccimento e trasformazione. Nick Land è un antidemocratico proprio per eccellenza, anzi praticamente è un monarchico. La sua idea più vicina a quella di Dugin è che l'illuminismo razionalista sia fallito completamente, infatti il suo libro più importante si intitola l'illuminismo oscuro. È un altro folle, Nick Land è un folle letteralmente, che dice cose sicuramente interessanti che dovrebbero fare riflettere. Ed è interessante perché partendo da presupposti diversi da quelli di Dugin, è un anti-autoritario, Land, a differenza di Dugin, che invece è uno che vuole lo Stato forte, ha una visione molto diversa da tecnologia, però comunque i presupposti sono gli stessi. È un alleato di Dugin perché il suo attacco alla democrazia liberale è fortissimo tanto quanto quello di Dugin. E poi c'è questa vena apocalittica che anche in Dugin si trova continuamente. quali sono i nostri anticorpi a tutto questo? Perché io so da che parte stare, ok? Cioè io sto dalla parte dell'Ucraina in questo momento e dell'Europa perché ho capito i presupposti dell'attacco che Putin sta portando all'Occidente. E spero questa sera di avervi portato almeno un tappeto di argomenti su cui basare la vostra comprensione. Quindi io ho deciso dove stare prima filosoficamente che non materialmente politicamente. Io credo che il nostro anticorpo sia il renderci conto di quello che stiamo a rappresentare con le nostre discussioni, con quello che facciamo. Che stiamo rappresentando dei valori per il semplice fatto di star qui a discutere nell'accordo e nel disaccordo le idee, i presupposti. Cosa che in altri contesti filosofici sarebbe impossibile. Quindi una seria critica alla nostra civiltà serve e dobbiamo farla e io cerco di farla il più possibile. Ma seria critica ricordandoci che non stiamo buttando via i presupposti che ci permettono di fare quella critica. Quindi una seria critica che superi le impasse del nostro presente, che è un presente di debolezza, di incertezza, ma una critica a me prima che ai valori, al modo con cui io costituisco i miei valori. Quindi senza dover fare tabula rasa è facile farsi affascinare dal cosiddetto cambio di paradigma. Se cambiamo paradigma è come se tutto tornasse nell'Eden e invece non è così. Non è così. Noi viviamo un grande paradigma politico, economico e abbiamo tutte le possibilità per migliorare con il nostro apporto quello che stiamo vivendo. Senza doverci far convincere da ideologi o ideologhi o ideologhe di qualsiasi risma. Credo che sia questo il nostro anticorpo e basarci sulla stima che abbiamo dei presupposti della nostra civiltà. Questo è. Perché fin dei conti, e questo lo posso dire senza lanciare imprevisioni, quello che stiamo vivendo in Ucraina è prima di tutto uno scontro di diverse visioni del mondo. Che ci piaccia o meno ci siamo dentro. Da che parte stiamo? Spero in questa serata di aver portato qualche ragionamento utile a farmi fare una scelta... una scelta, come dire, una scelta più consapevole. Ecco tutto. Uh, ma quanto ho parlato? Ma quanto è durata sta live? Cazzo, tantissimo. Bevo, rispondo a qualche domanda e poi stacco perché sono finito. Allora. Ma che sondaggio avete fatto? Il cappello di Rick è una coppola del contrario, un basco, Cesare. Siete dei personaggi tristi. E sta vincendo un basco, quindi sta anche vincendo proprio la più sbagliata, perché questo poteva persino essere Cesare. Siete delle persone problematiche ed è per questo che vi voglio bene. Eh, certo, come sempre domani, in podcast e su YouTube. Allora. Boadicea dice Le parole di Ayn Rand e la precedente live di Rick su questa pensatrice risuonano fortissime nella mia mente in questo momento, in quanto perfetto contraltare le stronzate e i dughi inessimili. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Grande Ayn Rand. Allora, prendo qualche domanda. Vediamo un po' quale non ho risposto prima. Tenendo conto della sensibilità religiosa russa, questa definizione di razzismo è ancora più subdola. È vero, Mr. Bock, hai ragione. Quanto pensi sia influente la conoscenza personale che ha con Putin nell'adesione di quest'ultimo adatto alle idee di Dugin? Beh, no, non so dirti questo, Federico, sinceramente, no. L'altro mi sembra di aver risposto a tutte, mi sembra di aver risposto a tutte le altre domande, quindi credo che ci siamo, ragazzi. Io sono veramente finito, è stata molto più lunga rispetto a quello che pensavo, ma c'era un sacco di roba da dire. Quindi, a posto, a posto. Finché c'è anche solo il bambino che muore a causa dei giochi di potere, tutti i sistemi hanno fallito, compreso il nostro. Eh, Careina, va bene, cioè nel senso di principio posso anche darti ragione. Però poi uno deve prendere posizione, nel senso, non è che perché allora non abbiamo ancora fatto il sistema definitivo che ci salva tutti dalla morte, allora dobbiamo gettare i sistemi. Cioè, io non credo esista il sistema perfetto, perché vedi, cos'è un sistema politico? Se non il tentativo. Grazie, Mr. Bock, per aver regalato il suo trecentesimo abbonamento. Grazie, veramente grazie. Dicevo, cos'è un sistema politico se non il tentativo di smussare la naturale crudeltà del mondo? O più che crudeltà, crudezza del mondo. Il mondo è crudo. Il mondo è ingiusto. Il mondo è diseguale. Perché il mondo funziona attraverso i meccanismi di selezione. E la selezione è crudele. La selezione uccide i bambini, fa scomparire cose belle, che ci piacciono. Cos'è la cultura se non il tentativo di smussare questa crudezza? In questo senso il sistema politico perfetto non esiste, perché il sistema politico sarà sempre un'approssimazione che si incastra più o meno in questa crudezza. Ci sono sistemi che smussano discretamente bene quella crudezza. E secondo la mia visione, e per quello dico, leggete Pinker, leggete Hans Rosling, il nostro sistema politico-economico è quello che fino a questo momento storico, secondo me, ha smussato meglio la crudezza del mondo. Ci sono altri sistemi che o smussano molto male quella crudezza, penso al sistema comunista. Il comunismo ha l'idea di smussare le ingiustizie e la crudezza del mondo, ma l'ha fatto molto molto male. In ogni ambito si è stato applicato, a volte addirittura cerca di accelerare quella crudezza, come il sistema nazista, che voleva fare la guerra per dare un'accelerazione. Come per velocizzare la scomparsa di alcune creature, per poi smussare. Capite, in questo senso non esiste il sistema perfetto, però credo che sia questa la risposta. L'unico sistema perfetto è quello che viene chiamato stato di natura, ma è quello che si arrende alla crudezza del mondo e decide di aderirvi completamente, non è quella la strada. Quindi, sì, è vero che ci sono dei problemi, è vero che il nostro sistema è imperfetto, è anche vero che finora è il sistema che ha fatto meno danni, secondo me, e anche secondo i numeri che abbiamo a disposizione. E basta, e basta, e basta. Allora, signore e signori, io direi che ci siamo per davvero. Andiamo a fare un ride, beh, c'è in live Adriana Cecic, e come non andare a fare un ride ad Adriana Cecic alla fine della live su Aleksandr Dugin? Perché è l'unico modo per sopportare tutte le puttanate che abbiamo letto questa sera, ovviamente. Quindi andiamo a fare un ride ad Adriana Cecic, le scriviamo in chat, go to the Cogito Studios. E noi, signore e signori, ci vediamo domani alle 12 con il nostro feed, c'è già il sondaggio su Telegram per decidere di cosa parlare, e io vi ringrazio tanto per stati con me, e buona serata, e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao! Ciao!